Hanno preso il via i lavori di riqualificazione di Via Europa a Montesilvano. Da ieri infatti è partito l'intervento del costo di circa un milione di euro per una durata di 180 giorni. Un'arteria di grande importanza sia da un punto di vista elevabilità ma anche da un punto di vista turistico, essendo una delle arterie più centrali da questo punto di vista. Ed è un piacere aver iniziato i lavori in questa via, partendo al momento dal lato monte, per procedere poi nel tempo sempre più verso la riviera. Sono lavori di riqualificazione totale che vedranno riqualificare i marciapiedi, il manto stradare, la realizzazione di una pista ciclabile e nel tratto più spostato verso il mare anche arredi degni di una città e di una via che vuole essere una via centrale soprattutto da un punto di vista turistico. I lavori sono partiti ma subiranno un arresto in prossimità dell'estate proprio perché la via è una via dove la sera spesso viene allungata l'isola pedonale per consentire ai turisti di frequentare l'arteria per proseguire poi subito dopo l'estate e terminare i lavori regalando alla nostra città davvero qualcosa di importante. Presidente, è stata apposta la segnaletica proprio perché inevitabilmente si avrà qualche ripercussione sulla viabilità cittadina? Sì, ho detto più volte durante queste settimane anche in altre zone della città quanto occorra per far sì che i lavori si portino avanti in sicurezza ma soprattutto nel modo più cerere possibile ed è evidente che comunque questo arrega dei disagi però come è sotto gli occhi di tutti sono disagi che andranno però poi a regalare alla città una viabilità più sicura delle vie più belle, più riqualificate quindi è il caso di dire è un disagio che però vale la pena in qualche modo sopportare.